buongiorno a tutti sono davide curti cittadino antidegrado oggi mi trovo nella zona di via turri dove ho trovato un ragazzo che una volta dormiva dentro alle officine meccaniche reggiane ciao come stai adesso cosa fai nella vita e dove dormi ma il comune non ti ha dato un appartamento una casa qualcosa ma come mai ti ha lasciato fuori senza un motivo valido e quindi adesso dormi dormi dove dove trovi e mangi alla caritas niente questa è la reggio emilia la città delle persone e niente un ciao da davide curti cittadino antidegrado ciao ciao